La scorsa settimana è stata caratterizzata da una volatilità molto elevata, si pensi che i mercati azionari non avevano mai visto una correzione così repentina. Abbiamo dunque deciso di mettere in atto un ulteriore ribilanciamento tattico per aiutare il portafoglio a navigare meglio la situazione di mercato. Abbiamo venduto nei portafogli più esposti a questa asset class le obbligazioni high yield europee. Questi strumenti, infatti, sono potenzialmente più esposti a un eventuale peggioramento della situazione di mercato. Per questo motivo, anche in via precauzionale, abbiamo ritenuto di sostituirla in portafoglio con bond governativi a breve, che in questo momento rappresentano un'opzione più liquida e meno volatile. Sai quanto paghi per i tuoi investimenti? Il controllo dei costi dovrebbe essere al centro della tua strategia di investimento. Scopri di più inoltre abbiamo deciso di ridurre la quota azionaria nella maggior parte dei portafogli, concentrandoci principalmente sui mercati sviluppati, per limitare la volatilità. Questa operazione servirà per rendere i portafogli meno esposti all'attuale incertezza di mercato. Come sempre, nelle prossime settimane e mesi continueremo a monitorare i mercati e a prendere tutte le azioni necessarie per proteggere i portafogli o sfruttare al meglio le opportunità che dovessero presentarsi. In una situazione di mercato di questo tipo, restiamo convinti che il modo migliore per preservare il proprio patrimonio sia rimanere investiti per assicurarsi i benefici di una ripresa che potrebbe essere altrettanto rapida, come testimoniato dall'alta volatilità del mercato sia in discesa, sia in salita. Per questo è importante non agire di impulso e gestire al meglio le prossime settimane. Lunedì è stata una giornata estremamente particolare. Già da diverse settimane il mondo e i mercati sono in preda all'incertezza legata al coronavirus. A questa si è aggiunta la disputa dei paesi produttori di petrolio. La decisione dell'Arabia Saudita di abbassare il prezzo del greggio ha determinato un calo della valutazione del barile. Se questa potrebbe anche essere una buona notizia per le famiglie e le aziende di molti settori, dal punto finanziario si tratta di Un ulteriore elemento di incertezza che nel breve termine ha contribuito ad aumentare i riposizionamenti sui mercati finanziari. In una situazione del genere può risultare complesso distinguere il piano dell'emergenza sociale sanitaria, il piano dall'economia reale e quello dei mercati finanziari. Si tratta di tre piani interdipendenti e fortemente collegati, ma che vivono di tempi di reazione propri e non sempre allineati. L'errore più grande che l'investitore può fare in questo momento è applicare le logiche emergenziali che giustamente vengono seguite. Per far fronte, per esempio, al rischio che alcuni tra i più vulnerabili non ricevano cure adeguate, con le conseguenze sull'economia di cui si dovrà occupare la politica globale. Bisogna guardare ai prossimi mesi con maggiore distacco emotivo, con l'obiettivo, soprattutto per coloro che hanno un orizzonte di lungo termine, di massimizzare il proprio rendimento e proteggere il proprio capitale nel tempo. In questo momento è difficile prevedere l'entità che le ripercussioni di questa vicenda avranno sull'economia nei prossimi mesi. Le proiezioni variano molto, lo scenario che riteniamo probabile prevede un graduale ritorno alla normalità nei prossimi mesi. Ma in questa situazione è opportuno essere cauti, valutare tutte le possibilità e mettere in discussione ogni giorno le proprie ipotesi. Quello che è certo è che la politica, soprattutto quella fiscale, ovvero quella messa in atto dai governi nazionali e sovranazionali, potrà essere la variabile positiva. Negli Stati Uniti ci troviamo in un anno elettorale e Trump ha già annunciato la volontà di mettere in piedi nuovi incentivi fiscali ad aziende e imprese. Domani il Regno Unito presenta una legge di bilancio che si preannuncia generosa e che potrebbe aprire una nuova stagione di espansione fiscale. E i governi europei e Bruxelles, seppur bisogna dirlo con tempi di reazione più incerti, stanno discutendo misure coordinate. Nella presentazione delle nostre visioni strategiche di inizio anno avevamo detto che i prossimi anni sarebbero stati un grande banco di prova per la politica fiscale, anche perché il mix del debito globale è cambiato negli ultimi anni. L'indebitamento privato è cresciuto moltissimo, soprattutto nei paesi emergenti, mentre quello pubblico è rimasto più stabile. Questo vuol dire che i governi avranno sia la necessità sia la potenza di fuoco di fare la propria parte. Dal punto di vista prettamente finanziario possiamo aspettarci un andamento volatile nell'immediato. Una volta che la crisi sociale e sanitaria sarà alle spalle si farà una valutazione più certa del quadro economico e questo già contribuirà a diminuire un primo livello di incertezza. Dopodiché ci sarà una ripresa che potrebbe avvenire in tempi estremamente brevi, qualche mese, come in tempi un po' più lunghi. La storia ci insegna che i mercati finanziari cominceranno a crescere probabilmente sulle aspettative di un ritorno alla crescita, e non sulla crescita economica stessa. Proprio per questo è importante non confondere i piani. Mancare la ripresa dei mercati può in questo momento creare problemi all'investimento nel lungo termine molto più gravi del calo azionario che abbiamo visto in questi giorni. Questo è un concetto chiave che deve guidare le scelte degli investitori, e che orienta anche le nostre analisi. Arriverà il momento in cui si potranno aprire delle opportunità per aumentare l'esposizione su diverse asset class, anche volatili, come per esempio l'azionario. Cogliere queste opportunità è per noi altrettanto prioritario che gestire il rischio nel breve, questo secondo noi vuol dire massimizzare l'interesse dell'investitore nel lungo termine.